Il coach ha creato i nostri microfoni, un debutto che doveva essere difficile, ma a un certo punto è sembrato anche una montagna, siamo riusciti quasi a scalarla, alla fine ci è mancato il topo finale, però un commento generale sul partito? Un commento generale che la partita ce l'abbiamo persa quando siamo finiti a meno 18, già al meno 13 del secondo quarto era una spia di allarme rosso, non possiamo sprecare quello che abbiamo sprecato in questa partita, non siamo stati evidentemente e sufficientemente belli, efficaci, è vero che ci è saltato quasi subito il piano partita, abbiamo subito molto Green che ha fatto 16 punti nei primi due quarti perché noi avevamo deciso di caponare la falla del post basso facendolo marcare da Valenti e Olasewer, ma i primi 20 minuti Olasewer non ha praticamente giocato, lì siamo andati sicuramente in difficoltà su questa situazione tattica, però detto ciò abbiamo sprecato troppo, troppe sbavature, dobbiamo pensare ai primi 30 minuti, non agli ultimi 10 perché se pensiamo solo agli ultimi 10 dove abbiamo fatto una rimonta che abbiamo entusiasmato e ci siamo entusiasmati, sì però se parti dal meno 20 ci prenderemo con quelle rimonte lì delle belle pacche sulle spalle noi dobbiamo pensare a non andare così sotto e così malamente perché siamo andati sotto male, cioè non per cose alle quali non potevamo mettere rimedi, sbavature, distrazioni, parliamo dell'ultimo tiro, nel secondo quarto dove usciti dal time out si dice ok andranno in 27 a rimbalzo, facciamo tutti taglia fuori e riusciamo a prendere rimbalzo d'attacco, fallo, due tiri liberi, ecco queste cose in questo campionato non possiamo permetterci.